Incidente ferroviario in Svizzera, dove due treni si sono scontrati nei pressi di Schweiz, a nord di Zurigo. I media locali parlano di una quarantina di feriti, mentre non dovrebbero esserci vittime. Disagio la circolazione dei treni con il traffico interrotto verso Zurigo dalle 7 di questa mattina. Restano invece ancora incerte le dinamiche dell'incidente. La società ferroviaria svizzera non ha ancora commentato l'accaduto. Grazie.